Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11 per incidente, traffico rallentato tra Lucca Este e Capannori nella carreggiata verso Firenze. Al momento in Fipili troviamo rallentamenti per lavori tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni, percorso alternativo sulla SP12 della Val di Pesa. Ricordiamo che in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus occorre limitare ogni tipo di spostamento. A questo proposito informiamo inoltre che l'offerta commerciale di Trenitalia e di ATAF a Firenze sono rimodulate e che l'aeroporto di Firenze sospende temporaneamente la propria attività. A Firenze inoltre, sempre in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, sosta gratis fino al 25 marzo nei parcheggi degli ospedali fiorentini di Careggi e del Meier. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario a causa di un guasto temporale e gli impianti di circolazione tra le stazioni di Arezzo e Castiglion-Fiorentino, i treni della linea Firenze chiusi potranno subire ritardi e variazioni. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!